Buonasera a tutti gli amici di karateka.it ci siamo collegati con un minuto d'anticipo così almeno cerco di mascherare al meglio la mia scortesia visto che nel primo minuto il nostro ospite stasera è Angelo Cercenzo non può parlare vorrebbe salutare ma non può parlare aspettiamo che si colleghino i primi amici per poi iniziare questa intervista che vi assicuro riserverà veramente tante sorprese prima di cominciare utilizzo questi ultimi miei 30 secondi a disposizione per ricordarvi innanzitutto le buone maniere quindi se vi collegate io vedo già 8-10 persone collegate 15 persone collegate però non vedo 15 like, 15 condivisioni 15 saluti, fateci sapere chi c'è perché io lo vedo solo dopo chi si era collegato quindi salutateci che noi ricambiamo sempre molto volentieri condividete la live per supportarci è gratis, un tastino condividi molto facile anche poi se per qualsiasi ragione vi volete finire l'ultima fetta di panettina e vi perdete un pezzettino di live noi siamo magnanimi quindi la live rimarrà sulla pagina facebook che la potrete rivedere subito appena dopo finita e poi in tempo record la carichiamo su spotify, sul nostro blog e su youtube quindi assolutamente imperdibile e ultimissimo ultimissimo annuncio come sapete ora tutte le live sono anche trascritte quindi se ve la volete leggere potete andare dai prossimi giorni sul nostro blog e la trovate anche in formato scritto saluto Augusto Salvati e Daniela Berrettoni grazie tra l'altro per averci permesso Daniela di fare questa intervista e Angelo ti do la parola sia per salutare i nostri amici sia finalmente per dirti benvenuto alle Karate Talks ciao Alessio e c'è tutte le persone che ci stanno seguendo finalmente sì anche io faccio parte diciamo della famiglia di Karatechi e saluto tutti spero che sarà una live piacevole per tutti ci racconteremo un bel po' di cose come ci siamo già detti e niente non vedo l'ora di iniziare abbiamo le domande di Instagram abbiamo le domande di Instagram e vi dico anche a voi amici da casa visto che ora abbiamo questo nuovo formato dove cerchiamo di concentrare tutto il valore in 20 minuti non siate timidi quindi se avete le domande è questo momento giusto di scriverlo nei commenti noi come sapete le facciamo tutte perché ambasciatore non porta pena quindi mettiamo un po' alla prova Angelo non sul tatami non ci permetteremo mai ma sulle Karate Talks ci proviamo e saluto Jimmy ciao buonasera Jimmy che dice grande Angelo quindi già i primi supporter che si fanno vivi e Angelo prima di partire ti faccio una domanda che ci è arrivata oggi su Instagram che è una domanda molto specifica ci hanno chiesto qual è la tua tecnica di gamba preferita che preferisci utilizzare durante il combattimento allora la mia tecnica preferita è sicuramente Uramawashi forse è una di quelle tecniche che non diciamo eseguo spesso ma sicuramente quella che alleno di più e mi piace di più proprio per la sua complessità penso che sia una delle tecniche di gambe più complesse e anche un po' quella più spettacolare quindi è questa la mia tecnica preferita ok e passando di palo in frasca noi come sai cerchiamo durante le Karate Talks anche un po' di vedere un po' di retroscena di quelli che sono i campioni del karate tu Grand Winter 2021 Argento Mondiale Atleta Olimpica insomma qualche cosina diciamo che negli ultimi negli ultimi due anni l'hai fatta ma partiamo dall'inizio un percorso preolimpico sicuramente faticoso visto anche soprattutto il covid come l'hai vissuto e come è stata riprendere con tutti i tuoi cambiamenti anche il tuo percorso preolimpico allora Alessio sicuramente è stato un percorso che all'inizio sembrava difficile ma in realtà poi si è rivelato ancora più difficile prima di tutto per il numero di competizioni che abbiamo dovuto affrontare si parlava di 20 competizioni quindi per uno sport come il nostro dove oltre a girare il mondo ci metti dentro anche preparazione calo peso e tutto ciò che sembra di contorno ma di contorno non è quindi già all'inizio sapevamo che sarebbe stato qualcosa di molto molto difficile naturalmente dietro questi grandi percorsi c'è tanta preparazione e tanto studio perché bisogna non solo farsi trovare pronto in ogni competizione ma non si può diciamo non tenere conto che in due anni che poi in realtà sono diventati tre ci saranno sicuramente degli alti e dei bassi quindi dei risultati sì e dei risultati no quello che posso dire ora che siamo alla fine di questo percorso è che il giorno uno diciamo io non avrei mai immaginato di arrivare alla fine con una continuità nei risultati come è stata se non sbaglio se non sbaglio contavo forse su tutte le trasferte fatte soltanto 4-5 anzi forse di meno forse 2-3 competizioni dove sono uscito fuori alle eliminatorie poi o finale per loro o finale per il bronzo che magari è stato un quinto posto ma comunque guardando al mio storico precedente una continuità nei risultati che poi di fatto mi ha portato a qualificarmi all'Olimpiadi tramite ranking una qualificazione lunga che di mezzo non ha trovato solo lo stop diciamo della pandemia che ha complicato tutto perché io ero arrivato a febbraio 2020 anzi a gennaio 2020 dove grazie diciamo a tutto il mio team eravamo nel pieno diciamo pronti per fare questo rush finale e arrivare fino alla fine della qualificazione e penso che i risultati finale alla Premier League di Dubai finale dopo due settimane alla Premier League di Salisburgo ne sono la conferma poi questo Covid ha stravolto un po' il mondo lo sta stravolgendo ancora oggi e ci ha messo veramente veramente in difficoltà c'è stato un periodo di caos dove non si sapeva cosa si potesse fare se ci potessimo allenare chiusi in casa all'inizio non savavamo se le competizioni fossero rimandate quindi io ricordo mi allenavo qua praticamente in cameretta dove sono ora oppure sul terrazzo di casa e poi è arrivato una diciamo piccola beffa del qualificato ufficialmente cosa che poi dopo dopo due mesi si è rivelata che non era più così quindi qualificato in quarantena finisce la quarantena pronto io ad uscire a festeggiare per questa qualifica olimpica e invece arriva la smentita e quello è stato un periodo difficile è stato un periodo difficile perché sempre di toccare il cielo con diciamo con una mano e poi ti rendi conto che magari non ti godevi di cominciare da capo ma c'è ancora tanto da fare soprattutto ti ripeto in un periodo di confusione dove le società sportive non erano ancora aperte bisognava allenarsi con il distanziamento quindi tutto tutto nel caos poi ci aggiungiamo che quando un po' abbiamo ripreso a gennaio pronto per la prima gara diciamo che era una serie A di Istanbul che era l'unica competizione prima di Lisbona valida per il ranking olimpico ho contratto il virus purtroppo quindi è saltata anche quella è saltata all'ulteriore competizione test di Parigi per un esito positivo al tampone che poi era solo uno strascelo del 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 virus e quindi mi sono ritrovato a Lisbona dove non dico era un dentro fuori ma quasi perché sapevo che comunque c'era in gioco tantissimo ed erano le ultime due competizioni a Lisbona è arrivato questo questo bronzo ormai atteso da circa due anni che mi ha fatto qualificare per Tokyo e e lì un po' diciamo abbiamo chiuso questo percorso veramente veramente lungo e è difficile figo figo veramente un racconto che poi ora apriremo il prossimo capitolo però prima volevo salutare addirittura c'è chi si è collegato da Londra ricominciano i nostri collegamenti internazionali quindi forza Casey si collega che immagino sia una palestra appunto londinese ti saluta e ci sta seguendo saluto anche Daniele Rifo Francesco e Aldo che aggiunge tra l'altro che sei un grande esempio per molti ragazzi e questo mi permetto di dirti e di farti complimenti pubblicamente per una cosa di cui ci siamo trovati a discutere che è la comunicazione del tuo karate sui social che a me piace molto e che appunto visto che i ragazzi ma non solo sono sempre su queste piattaforme spero potremmo magari parlare negli ultimi minuti di cosa vuol dire anche fare per te comunicazione e parlare di karate di karate sui social perché appunto è un canale per far appassionare alla nostra disciplina no? Sì io sono pienamente d'accordo anche perché credo seriamente che oggi i social anche se tantissime persone le utilizzano nel modo sbagliato hanno il potenziale per far conoscere quella che è un po' la nostra disciplina come per far conoscere tante altre discipline che purtroppo non dico il mondo tante volte dimentica ma che tante volte restano nell'ombra dei grandi sport ricchi di pubblicità ricchi di di soldi io quello a cui faccio particolarmente attenzione ogni volta è di comunicare e spero che le persone lo possono percepire che comunque sì siamo degli atleti lo sport è crudo perché oggi vinci e sei una star domani perdi e non sei nessuno però dietro questo diciamo palcoscenico ci sono comunque delle persone delle persone con dei sentimenti delle persone che fanno dei sacrifici e che i sacrifici non possono essere giudicati solo dalla medaglia sì o dalla medaglia no perché a prescindere dal risultato che per di più nel nostro sport è veramente su un filo sottilissimo perché un evento che stiamo parlando di 10 minuti di secondi ti possono portare alla vittoria e un evento a sfavore ti possono portare alla sconfitta e sicuramente questo non può precludere ore e ore e ore di allenamento che tu naturalmente sottrai al resto della vita ci sono atleti che trascorrono la maggior parte della giornata della loro vita in palestra tutti i giorni ad allenarsi al 100% e anche qualcosa in più e sicuramente una medaglia mancata non significa che tutto quello che ha fatto vale zero però appunto anche farlo vedere è un modo per avvalorarlo al di là di qualsiasi risultato e su questo io sono super super d'accordo riprendo lo spunto del risultato per parlare del prossimo capitolo che sono appunto le olimpiadi delle olimpiadi che diciamo non sono andate proprio magari come ti saresti ti saresti aspettato però vorremmo un po' la tua versione dei fatti cosa è successo ma soprattutto cosa hai fatto per andare avanti dopo al Tokyo è sicuramente un capitolo chiuso della mia vita che come dicevi non si è chiuso nel modo migliore come io stesso mi aspettavo e di quello che è successo fisicamente in quell'incontro ti posso raccontare ben poco considera che il risultato finale l'ho scoperto dopo sette ore perché nella mia mente quel piccolo frammento che c'era era tutt'altro quindi ho dovuto aspettare che mi arrivasse il video dell'incontro per capire poi come fosse andato a finire quindi di quell'esperienza nell'istante della gara resta poco però resta sicuramente tutto il percorso la sicurezza di essere arrivato a quell'incontro preparato al meglio sono sicuro che non ci poteva arrivare in modo migliore e questa è stata un po' la mia forza nel post Tokyo perché tutti sappiamo che è difficile avere di nuovo il karate alle Olimpiadi ad oggi è complicato lo speriamo in tanti ma è complicato e quindi quella potrebbe essere diciamo l'occasione sfumata della mia vita della mia carriera a cinque cerchi e dopo cosa è successo non è stato non sono stati giorni settimane facili però per l'ennesima volta nella mia vita mi sono dovuto chiedere perché facessi questo sport e e se volevo continuare o no perché in questi casi quando tu costruisci un un'idea punti tutto su diciamo su un obiettivo è come fare un po' l'in nel poker l'obiettivo sfuma e dopo puoi fare soltanto due cose o smetti perché sei deluso e non fai più niente ma smetti che devi cambiare completamente la tua prospettiva di vita o lo affronti perché non ci sono altre 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 strade puoi rimanere là a chiederti il perché a guardare l'episodio e lo guardi lo riguardi ma non cambia cioè è un passato che non puoi cambiare ascolti gli amici no ma gli albitri potevano comportarsi in modo diverso tu magari avresti potuto continuare sì ma non cambia quindi io mi sono chiesto perché alla fine la risposta è stata che lo faccio al di fuori dei risultati io faccio questo sport dedico la mia vita a questo sport perché lo sento dentro e perché ho voglia di dimostrare a tutti la persona che sono attraverso questo sport e quindi si va avanti si va avanti ricominci da zero anzi forse da sotto zero perché nel mentre tu sei stato in camera a pensare a come è andata gli altri hanno lavorato si sono allenati le programmazioni sono andate avanti le gare sono ricominciate quindi devi ricominciare e devi correre quindi stai in palestra non ti alleni due volte ma ti alleni tre volte al giorno rincorri 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 ti poni nuovi obiettivi e li raggiungi questa è l'unica strada per uscirne e arriviamo quindi al recente mondiale dove hai conquistato il bronzo mondiale che ricordiamo rispetto alle olimpiadi ci diceva Savio Loria che anzi sotto certi punti di vista è anche una competizione intesa proprio come competizione in senso stretto non tutto il percorso che viene prima o dopo ma forse anche più estenuante perché comprende un gran numero di partecipanti mentre le olimpiade comunque erano un numero limitato di partecipanti sulla gara cosa è successo al mondiale e come è arrivata questa finale e direi una finale comunque un argento del riscatto dopo quello che è successo a Tokyo sicuramente questo mondiale era un qualcosa che di pari passo ha affiancato diciamo il percorso olimpico io sapevo che il mio anno il mio anno sportivo non finiva il 5 agosto con le olimpiadi ma che ci sarebbe stato questo mondiale ci arriviamo da campione del mondo in carica quindi sapevo che tutti avrebbero fatto la lotta contro di me e quindi naturalmente non volevo deludere a nessuno poi come ho sempre detto ero troppo affezionato alle bande dorate diciamo sul kimono che purtroppo in finale ho dovuto cedere le eliminatorie sono state veramente dure anche per una questione di turbinizzazione quindi mi sono ritrovato a fare veramente cinque incontri di seguito quindi ognuno con i tre minuti di recupero però mi sono divertito mi sono divertito in un modo che avevo già avuto modo di assaporare nella Premier League di Mosca e poi io sono molto emotivo quindi sono sicuro che quando mi diverto riesco a cacciare il meglio di me anche sul tatami e quella è stata un po' la svolta perché dopo quel periodo risalire sul tatami salutare l'avversario e riuscisse a divertire mi ha fatto capire che stavo veramente bene con me stesso e che nonostante tutto quello che è riuscito a preparare diciamo in quei tre mesi bastava per poter raggiungere la finale e poi la finale è stata particolare sicuramente contro un avversario storico della mia categoria infatti ci rincorriamo nell'all time ranking ormai siamo primo e secondo nonostante tra virgolette rispetto a lui la mia giovane età e ha preso qualche punto di vantaggio ma sono sicuro che lo riacciuffo e lo sorpassa e noi saremo qui a vedere i tuoi successi però un anno che comunque non si conclude con solo quella gioia ma anche quella di essere il grand winner 2021 questo del grand winner è stato diciamo anche una una bella sorpresa nel senso che io ho affrontato tutta la qualifica olimpica pensando lo dicevo un po' anche all'inizio nel senso che sapendo che il percorso fosse stato lungo e difficile cercavo tappa dopo tappa di concentrarmi esclusivamente su quella e sono arrivato praticamente forse all'ultima gara a Mosca ad avere l'idea che oltre al percorso olimpico c'era di parallelo anche il percorso di grand winner e proprio lì con il bronzo sono riuscito ad arrivare primo nel nel ranking dei due anni quindi 2020 2021 ed aggiudicarmi questo premio che è sempre un premio un po' particolare perché stiamo comunque parlando di un circuito Premier League che per noi del karate è diciamo la massima competizione a livello internazionale dove hanno accesso solo i top 100 di ogni categoria e quindi arrivare alla fine di due anni nonostante tutte le difficoltà del percorso a vincerlo per la seconda volta nella mia carriera è stato qualcosa che veramente mi ha colpito e ti dico che è un po' la benzina che mi farà affrontare il prossimo anno al meglio ci sono sicuro anche perché comunque puoi arrivare super in forma o acciaccato a un mondiale ma un grand winner lo costruisci come dicevi tu anche a un certo punto con la costanza di risultati sostanzialmente è un riconoscimento di un lavoro lungo con meno variabile casuale passami il termine prima di chiudere sporiamo un attimo uno perché ho fatto un errore madornale e me lo stanno ricordando su whatsapp che non ti ho chiesto la curiosità che a questo punto sarà l'ultima l'ultima domanda ma la seconda domanda che avevo selezionato tra quelle arrivate su instagram è molto secca mi chiedevano cioè se all'inizio della tua pratica di karate seguivi uno stile particolare hai iniziato con uno stile cioè preciso tra shoto cancetori uo eccetera partendo dal fatto che prima ancora di praticare karate io ho fatto per tre anni anzi no per cinque anni kickboxing quindi quando sono arrivato nel mondo del karate era abituato a fare tutt'altro sicuramente ci sono stati dei punti di riferimento che poi sono state persone che ho avuto modo di conoscere e di avere al mio fianco il nazionale che sono sicuramente stevano maniscalco e luigi busà e mi ricordo che passavo ore e ore a guardare i loro video e quindi diciamo sono stati loro un po' la fonte di ispirazione di questa mia carriera super e ultima domanda che doveva essere la prima dici una curiosità una passione al di fuori del karate di angelo crescenzo allora te ne dico te ne dico tre te ne dico addirittura tre gran finale la prima che sono sono molto molto legato ai videogiochi gioco nel tempo libero gioco gioco tanto come ti dico Twitch ce l'hai il canale Twitch no Twitch no siamo già il gioco in incognito quindi non si può dire ok la seconda è che nel corso della mia vita ho amato la musica a un certo punto pensavo che il mio futuro fosse diventare un TG internazionale quindi stiamo parlando proprio così e la terza che nessuno direbbe è che mi piace leggere audiografie quindi quando riesco mi dedico alla lettura è difficile incastrarla tra le varie cose però nei vari viaggi e quando c'è un po' di tempo libero mi diverto con questo e noi è appena arrivata la biografia di Stefano tra l'altro di Maniscalco che sto finendo di leggere per poi recensire quindi poi ti dirò se mi è piaciuto o meno così te la posso consigliare ma è veramente un bel libro ma la leggerò a prescindere quello ovvio però è un libro dove veramente viene fuori il karate e chissà magari un domani quando quando avrai voglia soprattutto tempo di raccontare la tua storia la leggeremo anche noi molto molto volentieri ci sarà tanto da raccontare diciamo super super il tempo a nostra disposizione è finito quindi io ringrazio a tutti coloro che ci hanno seguito ricordandovi se vi siete persi un pezzettino di live che è subito disponibile qui su Facebook ma poi la ritroverete anche su YouTube Spotify e il nostro blog sia in formato video sia in formato scritto quindi tutti i modi impossibili per fruire della super intervista con Angelo io vi ringrazio per averci seguito ringrazio il nostro ospite Angelo Crescenzo grazie davvero per essere stato con noi stasera grazie Alessio e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e ci sentiamo a una prossima puntata delle Karate Talks buon anno se non ci rivediamo e non ci risentiamo ma prossimo anno buone feste a tutti buone feste ci ritroviamo qui con Karate Talks ciao ciao